Il legno punta molto al riuso creativo, a tutto quello che poi porta all'economia circolare, che è un tema molto attuale, molto interessante. Noi siamo un consorzio che, siamo il vivaio del legno italiano, siamo un consorzio che raccoglie più di 2 milioni di tonnellate di legno e affidiamo all'industria del riciclo. Attraverso la creazione di pannelli si è in grado poi di contribuire a quello che è l'immagine dell'Italia nel mondo, del design, della costruzione di mobili. Oggi presentiamo ricreazioni di legno, un lavoro che il consorzio di legno ha voluto, ha condiviso. Viene da un percorso dedicato a cercare di comprendere l'impegno degli associati di rilegno sul piano della prevenzione e quindi l'impegno ambientale. Abbiamo verificato, scoperto, che c'è una fortissima attenzione verso il riuso e quindi oggi proviamo a disegnare uno scenario zero per avviare un percorso di ricerca finalizzato a indagare e navigare questo mondo del riuso prossimamente in maniera sempre più attenta e incisiva. Grazie. 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 Grazie.